Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Quest'oggi video col cellulare, purtroppo mi si è scaricata la batteria della Canon e visto che volevo registrare adesso anche perché ho tempo, mi son detto perché non registrare col cellulare? Ovviamente l'inquadratura non sarà il massimo, potrebbe traballare un po' e per questo motivo voglio chiedervi scusa appunto per innanzitutto il rumore in sottofondo ma purtroppo con sto caldo ho la finestra aperta e c'è il ventilatore acceso ed anche perché la telecamera non sarà molto ferma. Comunque vando alle ciance direi di passare subito mostrandovi quelli che sono stati gli acquisti del mese e poi dopo aver mostrato i pochi acquisti che ho fatto per questo mese di agosto risponderò ad alcune domande che mi sono state fatte sotto l'ultimo video. Per questo mese ho acquistato solo le cose che avevo in casella per cui mostriamo subito il bel One Piece numero 87 se non ricordo male, sì. In questo numero prosegue la storia di Big Mom. The Seven Deadly Sims numero 24 serie che sto apprezzando tantissimo. È uno dei miei shonen preferiti e questo manga lo consiglio a tutti praticamente. Altro shonen che straconsiglio è Black Clover, siamo arrivati al numero 12. Anche questa è una delle mie serie preferite che non posso far altro che consigliere a tutti gli amanti dei Battleshonen. Abbiamo poi Ghost In numero 5. Poi proseguiamo con Dragon Ball Full Color Edition numero 7. Dragon Ball è in assoluto il primo manga che abbiamo eletto, se non proprio il primo fumetti in assoluto che abbiamo eletto. Il prossimo numero, se non ricordo male, dovrebbe essere l'ultimo di l'arco narrativo con Goku da piccolo e quando uscirò dal tavolo numero potrò rileggermi con piacere tutti i numeri usciti finora di Dragon Ball Full Color Edition. E stavo pensando di farci un bel video dove parlo di questa edizione. Non so, sto decidendo. Magari fatemi sapere con un commento. Abbiamo poi il decimo numero di Pretty Guardians of the War Moon. Abbiamo poi Fairy Tail New Edition numero 32. Avanti Fairy Tail. Io sono rimasto un pochino indietro con la lettura della New Edition per cui non dico niente anche perché non l'ho sbagliato minimamente perché voglio evitare di farmi spoiler. Poi abbiamo uno dei miei manga preferiti. Finalmente è uscito il ventesimo numero di uno dei seinen più belli in assoluto che è Villan Saga. Questo penso che sarà il primo manga che leggerò di questi acquisti che ho fatto. Non vedo l'ora di leggerlo perché voglio vedere come proseguono. Perché non vedo l'ora di vedere come proseguirà l'avventura di Torfin e sono curioso. Voglio vedere se riuscirà a salvare i suoi compagni. E l'ultimo manga che ho acquistato è stato il decimo numero della Perfect Edition di Ranma Mezzo. Rieccomi con l'altra inquadratura. Qui in casa fa un caldo incredibile anche perché sto cucinando una torta. Una torta semplice, abbastanza leggera perché è fatta con farina da avena aromatizzata con brownie. Ho usato due tipi di farina aromatizzata. Una aromatizzata al brownie e l'altra aromatizzata al burro d'arachidi. Con un po' di latte, un uovo e un po' di lieviti. È una cosa molto leggera. Sono curioso di assaggiarla. Comunque, senza perdere tempo, leggiamo le domande. La prima mi è stata fatta da Comics2. Canale che comunque vi consiglio di visitare. E ti ringrazio per aver fatto questa domanda che ora leggerò. Per le domande del video sono curioso di sapere se hai mai cucinato qualche cibo tipico giapponese, seguendo magari le istruzioni date da un anime. Il cibo giapponese ho provato a fare forse... Il nome non me lo ricordo. Avevo provato a fare i dorayaki, se non ricordo male. Se non ricordo male si chiamano dorayaki. Quelli che si vedono in Doraemon. Avevo preso la ricetta su un canale YouTube, Nerd Kitchen, se non ricordo male. che avevo fatti... Erano venuti buoni. Dovrei provare... Il mio obiettivo è provare a fare il ramen. Ramen che adoro. Un'altra domanda mi è stata fatta da Marco, che mi chiede... Ah, mi ha fatto più di una domanda, perfetto. La prima domanda che mi ha fatto è... Qual è stato il tuo primo manga? Beh, chi mi conosce e mi segue dall'inizio sa che Dragon Ball è stato il mio primo manga. Dovrei averlo anche detto prima, quando ho mostrato gli acquisti. La seconda domanda è stata... Come hai iniziato a leggere manga? Andai in edicolo con mia madre, ero in vacanza in quel periodo. Per le stesse vacanze estiva. E vedi Dragon Ball. Rimasi affascinato dalla copertina e chiese mia madre di prendermi e da lì lo lessi. Poi mi stoppai dopo un po' di numeri. Lessi qualche fumetto così ogni tanto. E cominciai ad acquistare i manga in modo più frequente, proprio in modo serio, andando in fumetteria almeno una o due volte a settimana, alle medie. E indovinate con che fumetto iniziai comunque a riappassionarmi, proprio con Dragon Ball. Lì, per un periodo continui a seguire i manga, tra cui Dragon Ball completai l'edizione deluxe, che era quella con la costina rossa in 42 numeri. E in quell'epoca seguivo anche Trigan, avevo il tre numeri di Devilman, che non ricordo se era la prima edizione, quella lì. O era comunque un'edizione fatta in tre numeri. Poi anche lì, non ricordo come mai mi fermai dalla rinfumetteria. E c'è stato uno stacco di tempo dove lessi ogni tanto qualche numero di comics americano. Poche cose. Ripresi dopo un po' di anni a comprare fumetti e iniziai proprio, non più dal Dragon Ball, ma con Naruto. Naruto è il mito. Presi i primi 40 numeri, poi comprai la prima edizione, quella Naruto nera. E da lì sono tornato ad appassionarmi al mondo dei fumetti giapponesi, perché inizialmente io acquistavo solo fumetti giapponesi. Cominciai ad acquistare comics Marvel da Assedio. Comprai Assedio La Cabala, il numero zero. Forse la pronuncia è anche sbagliata. E invece DC, il primo che comprai come supereroe fu Lanterna Verde, anche se, essendo che Flash è il mio supereroe DC preferito, iniziai nel corso degli anni e ho comprato sempre numerettini così sparsi. E poi DC cominciai a comprarli tutti quelli che mi interessavano con il reboot, che era New 52. Però senza perdere troppo tempo leggiamo l'altra domanda che mi ha fatto Marco. Che è manga preferito e mangaka preferito? Questa è una domanda abbastanza difficile, perché il mio manga preferito in assoluto è Monster di Naoki Urasawa. Quello è il mio manga preferito in assoluto. Mentre i mangaka, per i mangaka è difficile, perché io ho tanti mangaka preferiti. È difficile, questa qui è una cosa alla quale non saprei rispondere. Diciamo così dai, Naoki Urasawa diciamo che è nella top 10 dei miei mangaka preferiti. Magari un giorno potrei fare la mia top 10 mangaka preferiti, la top 10 manga preferiti e la top 10 comics preferiti. Fatemi sapere con un commento. Perfetto, ora non ho più nulla a dire, se non ringraziarvi ancora per la visione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi scuso ancora per il fatto che sto registrando col cellulare, per cui la qualità non è il massimo. L'immagine non è nemmeno tanto stabile. Vi ricordo che, se non lo siete, i miei video vi piacciono e volete essere sempre aggiornati sui futuri caricamenti, di iscrivervi al canale. Vi ricordo anche di iscrivervi sul mio canale Twitch, canale dove al momento sto portando delle live su Dark Souls. E vi ricordo di passare sia sul mio Instagram, che tengo aggiornatissimo pubblicando più storie al giorno, mostrando via anche quello che mangio ogni tanto, parlando anche di fumetti che sto leggendo, anche delle ricette che preparo. Insomma, su Instagram pubblico tantissime cose e di mettere anche un bel mi piace sulla fanpage, se non l'avete ancora fatto. Perfetto, ora non ho veramente più nulla a dire, se non ringraziarvi ancora per la visione. E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!